Due ore di spettacolo e divertimento allo stato puro per una serata indimenticabile nel segno della comicità irresistibile della grande vitalità musicale che da sempre caratterizzano le esibizioni dell'artista. Sul palco dell'Aristonte Ocoli è dato vita ai personaggi che lo hanno reso noto da Felicia Caccamo, storico personaggio di Maidi Regol, alle riuscitissime imitazioni di Ray Charles, Cesare Maldini e Adriano Cialentano. Il tutto accompagnato dalla Doctor Beat Band composta da quattro musicisti ed una corista. Sì, è un viaggio perché alcuni monologhi sono di 50 anni fa, sono abbastanza dei primi tempi di cabaret, del derby di Milano con Iannacci, Cocchi, Renato, si faceva un altro tipo di spettacolo, con pochi monologhi, tante scenette, tante canzoni, tanta musica e poi invece è arrivata questa moda del cabaret che tutti chiamano cabaret ma non è cabaret, il cabaret è quello del fin cabaret e nient'altro. Quindi c'era tanta roba e siamo arrivati anche ai giorni nostri a qualche cosa di attualità ma io vado sul classico normalmente. Ma la cosa che mi piaceva di più, e poi lo racconterò anche in teatro, era cantare, però non ho mai avuto la volontà di imparare uno strumento, di studiare qualcosa, in effetti se tu canti senza chitarra sei un cretino, ti prendono per pazzo, invece con la chitarra e poi io ho rimandato, ho rimandato e alla fine sono rimasto nel mondo della musica facendo dei music come Air, come Saltimbacchissimo di Iannacci, la tappezzeria di Iannacci, tutti i spettacoli musicali. E poi mi sono dedicato un po', cinema poco, non mi piaceva molto, agli spettacoli che si basavano sulla mia vita, sul mio modo di essere, sul mio modo di lavorare. Insomma, io quasi ho centa, come si dice spagnolo. Non andrò avanti, continuerò, mi tornerò in forma, farò tutte le cose che si possono fare per continuare a fare questo lavoro, perché se non faccio questo lavoro non faccio niente, non sono capace di fare niente.